Ciao a tutti, è bello incontrarvi. Mi chiamo Pietro e vi do il benvenuto nel Pietroverso. Se siete curiosi, annoiati o se semplicemente vagabondando nell'internet avete tirato fuori il pollice, siete arrivati qui, questo è l'universo che fa per voi. Un universo pieno di galassie che io voglio esplorare insieme a voi. Un universo a forma di me. Seguitemi.